Dopo l'approvazione della legge nel corso dell'ultima assemblea legislativa, si svolge oggi, 30 luglio, qui a Carpegna, presso il Palazzo dei Principi, il primo appuntamento degli stati generali dell'artigianato, organizzato dall'assessorato regionale. Diciamo che ci tenevamo davvero tanto a fare qualcosa di concreto per il mondo artigianale marchigiano. Abbiamo approvato martedì una legge all'unanimità in Consiglio regionale che rimette al centro l'attività artigianale che nella nostra regione è veramente molto importante. Siamo la regione con la più alta percentuale di imprese artigiane rispetto al totale delle imprese, abbiamo una capacità di creare innovazione grazie ai tanti imprenditori artigiani che hanno fatto grande le marche e hanno anche creato delle industrie eccellenti partendo dall'artigianato. E quindi questa è la nostra tradizione, la nostra storia, però deve anche essere il nostro futuro. Ed è per questo che stiamo qui a Carpegna a parlare del futuro dell'artigianato, quali sono le nuove forme di commercio, quali sono le nuove forme di produzione su cui la regione, attraverso anche i prossimi fondi europei, può creare contribuzione per renderle competitive e riuscire a farle stare sui mercati. Insieme a tanti altri settori però l'artigianato è una, credo che sia una delle priorità su cui guardare, è una eccellenza assoluta, intorno all'artigianato si può sviluppare veramente un volano incredibile. Pensiamo ad esempio all'artigianato legato al turismo, all'artigianato legato al commercio piccolo e pensiamo alla legge sui borghi che non ho citato poco fa ma che rappresenta il cuore pulsante del nostro progetto per le marche. Perché è appunto volto a recuperare tutte quelle aree che purtroppo hanno vissuto lo spopolamento soprattutto nell'entroterra. E in un borgo uno non pensa di trovare qualcosa che è legato alla grande distribuzione, in un borgo noi vogliamo restituire il protagonismo al commercio, all'agricoltura e all'artigianato e alla manifattura. Le piccole realtà devono essere valorizzate e devono essere tutelate, quindi diciamo che la regione ha dimostrato in questa occasione una grande attenzione per le aree interne e in questo caso anche le aree di confine. A pochi chilometri abbiamo Toscana e Romagna e io direi che è un atto molto importante. Secondo me va proprio nell'ottica di ridare ossigeno ai piccoli comuni che hanno bisogno e non dimentichiamo che da poco sono passati due comuni nostri vicini in Emilia Romagna. Questo è un gesto della regione che ci dà la possibilità appunto di valorizzare le aree interne e va nell'ottica anche di dire che le marche ci sono e danno importanza a tutti, alle grandi città ma anche ai piccoli centri. Grazie.